E bello a tutti ragazzi! Prima di iniziare con il video sono qui anche per dirvi che d'ora in poi le live le faccio su Twitch beh, quando dico d'ora in poi ormai sono passati giorni e giorni, questa è un intro che vedrete sempre ogni inizio video quindi ricordatevi di seguirmi su Twitch, il nickname è Il Rigotto, il link lo trovate in descrizione e per seguirmi basta schiacciare questo cuore viola se non sapete dove scaricare Twitch andate su Play Store o su Bluestack se siete da PC e lo scaricate e mettete la campanellina perché si può questa è una bella schermata di offline ma in ogni caso siamo verso i 500 follower stiamo andando molto veloce e troverete tutti i link che troverete qui sotto descrizione tutti gli orai delle live e allo stesso tempo donazioni eccetera eccetera blurp che vabbè sono cose che poi vi spiegherò anche durante il percorso di Twitch qui ci sono i top donator del canale e qua i punti questi punti ragazzi li potete utilizzare direttamente per interagire con me punti che si guadagnano come? guardando allo streaming, infatti guarda per 5 minuti, riscatta bonus, partecipa ai raid, segui questo canale eccetera eccetera ci sono veramente un sacco di ricompense presto anche riguardanti a salva al mondo come potenziare un'arma, come fare anche missioni eccetera eccetera cose che volete e potete fare voi direttamente con i punti detto questo non perdiamo tempo andiamo direttamente al video e mi raccomando like iscrizione al canale ovviamente anche youtube ovviamente come ho ridetto prima buona visione bello a tutti ragazzi, querichi che vi parla, buona season 6 a tutti quanti visto che comunque sapete tutti che oggi è il giorno io sto registrando ovviamente prima, sono le 2 del mattino ma nulla mi impedisce di fare un nuovo video di armi ovviamente mi raccomando ricordo di seguire il twitch dove faremo tante cose specialmente da settimana prossima perché, attenzione, inizierò una maratona dove poi ovviamente verrà continuata quando dovrò ad esempio andare a letto direttamente dallo smartphone, dal telefono ovviamente modalità video, cassa attiva, donazioni attive, beat eccetera eccetera per far salire il timer stessa cosa anche durante la giornata il link del mio twitch è in descrizione siamo verso i 530 follow le live stanno andando bene e addirittura non portando salvo al mondo riusciamo a fare lo stesso contenuto stessi spettatori e riusciamo a fare un sacco di altre cose come reaction jogoesser un sacco di altre cose sono altri giochi ovviamente e così via quindi il link del mio twitch in descrizione stasera siamo in live ovviamente alle 20 e mezza come al solito potete fare la sub gratis col prime con amazon prime collegato al twitch ovviamente non perdiamoci in chiacchiere andiamo subito a vedere le armi di oggi più una novità sulle nuove aventure che arriveranno con la nuova season che ovviamente è arrivata quest'oggi le armi in questione di oggi sono quelle idrauliche tra cui ieri ho avuto una nuova molto figa perché è ricombussolata ma la vediamo a breve parliamo della season aventura nuova l'unica cosa che riusciamo a sapere che è stata detto pure tempo fa ma è comunque ripetutamente confermata non è ancora il 100% ma una diciamo un leak è che la season sarà incentrata sulla zona tropicale o meglio dire giungla ecco possiamo dirla meglio così molto simile secondo me se andiamo a montespargo in questa zona qui qua tropicale zone di questo tipo visto che quella di ora è incentrata su la mia città ecco quelle zone lì boschi ecco nulla di tutto ciò di tropicale eccetera quindi ci sta secondo me veramente ci potrebbe stare molto molto ah giusto per gli amanti di salvo al mondo ricordo che ci sono le missione vento folle che sono quasi finite bisogna arrivare fino alla fase 10 di ognuna prima eran 4 e dopo che le terminate vi darà ricompense più andate avanti che sia oro eccetera eccetera e vi dico conviene perché veramente c'erano degli eroi che mi mancavano anzi uno solo sono riuscito a prenderlo ho iniziato dalla mattina ho finito la sera 8000 di oro tipo quindi top e allo stesso tempo non so quanto dureranno con le missioni però fidatevi fatele se non avete fatto le venture fatele almeno arrivate al livello 50 che danno comunque le cose buone e terminate in generale tutte le missioni delle venture finché potete perché danno super caricatori in più vedete io ormai non ce l'ho più le missioni di ventura non c'ho più niente ho uscita una giornaliera che andrò a fare a breve però qua vabbè è un altro re mitico tanto si può buttare perché tanto ce l'abbiamo già no? avremmo eh qua abbiamo già tutto doppione il resto va nel registro che registro mo è a 461 dovevo puntare al 500 e manca poco le cose le ho ma non tutte ecco cioè sono materiali di evoluzione non perdiamoci comunque in chiacchiere andiamo a vedere subito le armi di oggi sappiamo che le armi idrauliche comunque sono uscite molto tempo fa e ricordo le armi legacy sono comunque ehm state disponibili ehm da trovare nel lama o comunque trovare dentro ai pacchetti fondatori eccetera da season 1 anzi meglio dire dal ehm dall'inizio dell'alpha del game quindi ancora prima si parla di anni 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 fino a season 4 barra 5 dove ehm in quel periodo è uscito l'evento ehm militare e da quell'evento in poi non ci sono più state fuoriuscite di armi legacy ma solo armi con i perk ben stabiliti quindi armi normali e non da season precedenti tipo che è durata solo uno o due season mi raccomando ragazzi sia chiaro le armi legacy ci sono da veramente tanto tanto tempo ora come ora non sono più neanche disponibili da recuperare e stessa cosa vale anche per le armi doppio elemento fondatore che hanno risolto il bug entro uno barra due giorni quando c'è stato e le armi se ce le avete già doppio elemento che vi sono state date già date che siete riusciti a fare in tempo prima che risolvevano il bug allora siete fortunati ma non si può più fare niente di tutto ciò l'unica cosa che potete fare con le armi legacy è averne un po' di più se ce l'avete già però nel registro tipo verdi potete recuperarle recobussolarle se potete ovviamente se avete il v-back da buttare perché non è una cosa consigliata e così via però mi raccomando ricordatevi che ora come ora di robe strane doppio elemento eccetera che possiamo fare normalmente non c'è una bella sega ma torniamo a noi armi legacy dell'evento idraulico partendo dal basso abbiamo inchiodatore quest'arma è molto particolare è l'assalto del set idraulico questo è un caso elemento acqua ce l'avevo elemento fuoco ma se non voglio dire una cagata dovrei ancora avercelo molto figo per chi bianchi uno verde elemento acqua col bonus al 97 full vita durevolezza ovviamente full valore circa di queste armi ragazzi non ve li sto neanche a dire perché comunque di media armi di un certo tot tipo come quelle del drago che sono già un po' più comuni da trovare come anche altri set valgono dei 75 100 di raggio craftate poi ovviamente dipende anche dalla tipologia di arma dei perk come fatta tanti bonus eccetera però prezzo standard 175 di raggio ecco idrauliche è già un evento molto più invece molto ma molto è uno dei primi insieme a quelli di apple toy o scavenger oppure quello tubo vuoto quello di natale halloween ecco quelli sono già degli eventi un po' più che ci stanno poi continuiamo allora sto vedendo se ci sono altre armi idrauliche d'assalto poi andiamo nelle armi mazze e così via oh idral 43 molto carino non ancora sbloccati gli altri perk ovviamente mancano due perk non c'ha il bonus perché è un'arma legacy e non ce l'ha il bonus di suo come in questo caso può avercelo ma non quest'arma ecco e l'unica edizione legacy che c'è dell'hydra è ovviamente solo con l'energia continuiamo con pestatore pestatore senza elemento ed è addirittura l'unica versione diciamo che ho visto per ora in giro proprio onestamente io di pestatori con l'elemento non ne ho visto in giro comunque me l'avevate chiesto nei commenti ho messo all'inizio la lista delle armi che cerco così almeno c'è tutto quanto quello che comunque giusto cerco e se ce l'avete potete poi dirmelo in live quando sto in live tipo su twitch si può scambiare però ovviamente dipende se sto scambiando meno se no si fa anche off camera eccolo l'altro inchiodatore elemento energia questo è stato l'ultimo inchiodatore che ho avuto in questo caso legenda l'idra al 77 energia due perk verdi uno blu e uno bianco molto carino ci sta continuiamo con l'idra al 77 e se ci fate caso ha gli stessi perk dell'idra al 43 perché questo? perché tutti gli idra che ci sono in giro progetti che anche chiunque ha sono così ma immaginatevi un idra ricombussolato o un nocturno ricombussolato o un lancialo ricombussolato armi che se veramente hai il progetto tra le mani sei al top perché se tu le ricombussoli sei al top sono veramente delle top armi un esempio ho anche lanciopale di neve immaginatevi armi di questo tipo ricombussolate sarebbero molto fighe infatti ho avuto una idraulica molto molto bella che dovrebbe apparire a breve intanto abbiamo un altro idra stessa roba con i perk uguali vedete come anche quello al 43 però in questo caso al 126 questo qua direttamente è craftato dal crafter ha la cifra di 75 di raggio se non erro oppure 100 come vale per il frostbite lanciapalle e lanciahalloween ovviamente il prezzo è stato fatto perché è il crafter ma i prezzi di queste armi circa è anche abbastanza su 250 300 di raggio l'uno eccolo qua eh no abbiamo prankato questo qua è uno tsunami legacy senza elemento molto figo bello proprio bello e ho un'altra versione però ricombossolata due perk bianco uno verde due blu al 127 quindi una potenza anche molto molto carina schianta diga raga ricombossolato senza un perk acqua molto bello molto bello questo mi è stato scambiato sempre queste armi tipo particolari così sempre fuori driver riesco a comunque ottenerle scambiando comunque nei server adeguati molto bella due perk bianchi uno blu uno verde e bonus idra il 130 con i perk comunque soliti degli altri che abbiamo visto continuiamo su ho perso l'arma dov'è eccolo qua tsunami tre perk bianchi uno verde questo è anche bello oltre per essere di gombossolato e chi ha pure i perk che non c'è neanche il perk blu non c'è il perk blu è veramente bello è veramente bella come arma e gli manca pure un perk se voi ci fate caso andiamo a prendere uno tsunami normale guardate bene voi pensate che gli manca un perk e quel perk sarebbe stato sicuramente blu e invece no invece no perché se io vado a prendere lo tsunami se adesso mi capita mi capita tra mentre scorro vi faccio vedere che il perk che gli manca è quello in cima e se notate guardate bene esattamente gli manca il perk in cima vedete quindi perché ha il bonus sotto qui è tutto normale gli manca proprio il perk in cima perché non può essere come secondo ma deve essere come terzo l'elemento quindi molto bella sarebbe stata anche figa se avesse avuto un altro perk se sarebbe stata normale ma fu il perk bianchi e verdi sarebbe stata molto bella ci sta però è più figa così è il doppio più comunque rara prezzo di che a cui è stata data 100 di raggio direttamente dal crafter volevamo farcela fare anche a elementi diversi e potenze però non aveva molto sbatti ecco diciamo e questi ragazzi erano tutte quante le mie armi d'assalto e in generale d'armi per sparare idrauliche andiamo tra le mazze e possiamo notare che abbiamo i due polverizzatori fuoco e senza elemento molto carine l'ho avuto tempo fa pure acqua ma non ce l'ho più ce l'ho avuto pure natura e diciamo che vabbè tempo fa se vi ricordate avevo venduto tutto mo sono ritornato a collezionare da quanto? da gennaio quindi già da tre mesi e ci siamo rifatti il triplo delle cose ve lo giuro raga e addirittura mo ho un sacco di uno a uno moddate che non ho qui ma sul terzo secondo account sul secondo account vediamo ancora fare il video di tutte le armi però attendete perché devo ottenerne altre e poi potrò fare veramente il video del deposito e inventari più rari d'italia ma proprio top raga sarà spero poi faccia tante visual perché se lo merita se lo merita non siamo al top come canale ma portiamo roba top per questo ragazzi iscrivetevi lasciate like ma specialmente seguitemi su twitch queste erano le mie armi idrauliche compresi assalto ci vediamo stasera in live su twitch e niente qui da righe tutto bella raga alle 20 e mezza su twitch e grazie della visione